Musica Frequensi ma questa volta non siamo in lega mondiale, partita multigiocatore Pronta all'azione Con la mia battery e proviamo questa nuova arma GKS Mitraglietta Ho fatto fino a livello 4 C'ho il reflex personalizzato Impegno di utilizzazione rapida Al momento non ho ancora silenziatore in quanto devo potenziarlo Non mi ricordo se è disponibile o no Comunque è un'arma che ha pochi danni Ma ha una maneggevolezza veramente ottima Postazione ostile in solo volo Tutorial Super No I Non No Non Alla Bene cosi no che fare, primo in classifica al momento E' morto Non tiro Minamash distrutte Postazione direi ottima Attenzione e attivo un segnale tattico nemico Se vuol elicottero nest Segnale tattico nemico distrutto UAV ostile in sorvolo L'annaia letter è dettale e la partita finisce qua 33 26 con la sconfitta Approvvigionamento nemico in volo Però questa arma è davvero buona Ha una buona mira Quando spari non Ti fa perdere La mia sui nemico Nel senso che dalla testa passa La gamba Il colpo E' molto stabile come arma Questa la rende efficace Nonostante i danni non sono elevatissimi Mi piace come arma Bene Like al video se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto E ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi